Se vedo lì è una situazione oggettivamente che non può esistere. Tra l'altro mi viene da notare dietro e vedo degli striscioni sindacati, vedo USB, vedo quindi dei sindacati che hanno organizzato. Mi viene da dire ma questi sono in Italia e la prima cosa che hanno è in tasca la tessera del sindacato. Va bene, anche questo è un modo evidentemente per qualcuno di fare integrazione. Mi viene da pensare che qualcuno sta usando queste persone ovviamente per fare azione politica. e quindi ci sarebbe anche qui da riflettere su poi chi gestisce questi centri e chi utilizza queste persone. Probabilmente Carmelo ci farà anche ascoltare la voce di quelle persone che fanno anche la mediazione. Questi sono qui, dovrebbero essere teoricamente ospiti in attesa di avere un riconoscimento del permesso, però la prima cosa è che fanno attività sindacale. Il meccanismo non funziona, è evidente. Nel momento in cui una persona arriva, fa la richiesta di permesso di soggiorno, passano mesi, in questo caso abbiamo superato abbondantemente l'anno, ma addirittura gli è già stato detto di no. Perché non ne ha diritto. Il percorso deve prevedere alla fine del diniego l'espulsione. Non ci sarà altrimenti nessun disincentivo a chi non ha diritto, in quanto non viene da zone di guerra, ma è motivato semplicemente da ragioni economiche, a fermare questo flusso di immigrazione che è ormai inarrestabile, ma soprattutto insostenibile. La questione che deve essere messa a fuoco, ma ormai lo diciamo da troppo tempo senza essere ascoltati, se non si bloccano gli imbarchi, non ci potrà essere nessuna soluzione in nessun paese d'Europa. Perché questa è una questione numerica, non si può trasferire tutto il mondo in Italia, dall'Italia poi ridistribuirli in Europa. Quando Macron ti dice, io prendo solamente, e anche qui c'è da vedere con quali limiti, profughi, ti dice in maniera chiara che quelli che non sono profughi non possono entrare in Francia. E se uno si aspetta che il Presidente della Repubblica Francese faccia qualcosa di differente, si illude enormemente. Quello che dico onestamente è come si possa ancora da parte della politica del governo italiano non rendersi conto che ci stiamo imbarcando gente che non può essere mantenuta. Voi su questi temi aspicate un asse con il Movimento 5 Stelle? No, io aspico un asse con tutti, con chiunque abbia buon senso. Perché è evidente che i costi sociali ed economici, anche Boeri si è reso conto della boiata che ha detto, perché qui non è la questione di quelli che sono in fabbrica a lavorare. Qui è questione di grandi masse, di disoccupati mantenuti a spese dei poveri occupati italiani e stranieri. Cioè di chi le tasse le paghe sono 5 miliardi il costo della cosiddetta accoglienza del meccanismo che sta dietro a Triton. Cioè se su queste cose non si riflette sui numeri, di fronte c'è solo una sciagura, perché queste sono grandi masse che poi si organizzano pure, diventano anche rumorose, hanno dei diritti. Questo viene a parlare di questioni igieniche non rispettate. Io vorrei vedere dietro chi ha fatto una convenzione. Dov'è la prefettura? Chi gestisce quel centro? Quali garanzie devono essere date? Chi prende quei soldi e li mette in tasca? E fa fatturato? Queste sono le informazioni che cederà anche Carmelo. Tutte queste cose, alla fine, da troppo tempo restano sul tavolo senza essere affrontate. E l'unico modo per affrontarle è ridurre i numeri e dare ospitalità solo a chi è profugo realmente e viene da una zona di guerra. Non c'è un siriano lì dentro. Non c'è un iracheno. Le stesse statistiche che mettete lì dietro. nigeriani, Bangladesh, Guinea, Costa d'Avoria. Ditemi voi se questi sono profumi. Che nozioni da sono?